Ok ragazzi, eccoci qua, bentornati alla carriera, siamo addirittura d'arrivo, se non è oggi sarà la prossima volta la chiusura di questa carriera, ovviamente contratta nei tempi per questioni estive, perché parto e perché poi quando torniamo tutti dalle vacanze si penserà già al nuovo FIFA, e quindi andiamo molto veloci, cerchiamo di chiudere questa terza stagione, l'obiettivo che era quello di vincere la Liga Portuguesa l'abbiamo già fatto la seconda stagione, è stato un miracolo, volevamo fare bene in Champions, hanno fatto il biscottone, poi sono d'accordo con quelli che dicono che giocandole tutte non ci sarebbe stato il biscottone, però è proprio quello il problema, che a giocarle tutte allora ci mettiamo un mese a fare la terza stagione e non ne abbiamo proprio il tempo, quindi io speravo che abbinando simulate e giocate avrei passato il turno e invece proprio quel pareggio simulato è stato l'inizio della fine, comunque forse l'Europa League è più alla nostra portata, abbiamo visto la volta scorsa che c'è il City però nell'Europa League, quindi purtroppo non abbiamo la strada spianata verso la vittoria, se il City arriverà in fondo bisognerà fare la finale della vita, un po' come avevamo fatto contro il Chelsea quando avevamo il Blackpool, e poi la tassa portuguesa che vogliamo assolutamente vincere per non restare senza titoli. Abbiamo subito la Coppa tra l'altro con il Benfica, che è l'avversario più forte e ce l'abbiamo subito, forse è meglio così, così se ce lo leviamo possiamo sognare la finale della tassa portuguesa. Simulazione veloce con il Santa Clara, vediamo cosa succede, 1-1, vabbè ragazzi, lo Sporting perde, succede, succede, qua ci sono i quarti di tassa portuguesa e il mercato al momento quanti fondi abbiamo? Questo è importante da capire perché secondo me abbiamo 3 milioni, se non arriveranno grandi cessioni per me possiamo anche tenere la rosa così, che è un po' tra l'altro la direzione che stanno prendendo tutte le squadre ultimamente. Andiamo a giocarcela col Benfica, poi ultimamente abbiamo problemi con il crash del gioco, quindi se dovesse crashare la rigiochiamo con le maglie vecchie, perché purtroppo credo sia un problema proprio della mod, però speriamo invece che regga perché è bello utilizzare le nostre maglie, che comunque è ben visibile. Andiamo a giocare col Benfica che ha però un difetto, cioè ha giocatori stanchi, noi invece abbiamo riposato, quindi adesso carichi, possiamo passare questo turno e andare insieme. Di là, Nuno, tiro, mamma mia verissimo che chiusura da dietro, calcio d'angolo, vai Santos, dancing. Leo, prova tu, chiude Evertonghen, sì, Leo, e para Vlacodimus, era col piede debole, non ha angolato, bravo Leo, corto per allargare, invece è buona per Joseph, ti prego, miracolo di Vlacodimus. Perché mi sbagliano i passaggi? Questo non l'avevo richiesto. Gol del Benfica 1-0. Boh, ragazzi, cioè, ve lo giuro, ma mi era successo anche le altre carriere. Quando tu dici, dai, oh, terza stagione, la chiudo, prima la roba della Champions, ora questa, ma io dico, ma sei che scemi. 1-0 per i Benfica, siamo fuori dalla tassa portughesa, non la rifaccio neanche la partita, perché tanto sappiamo già, non avessimo vinto una Coppa Nazionale in tutto l'anno. Quindi a sto punto prendiamola subito, andiamo a vincere l'Europa League e chiudiamo la terza stagione. Contro il Benfica in casa, qua arriva Cabral che va, ok. Allora, ragazzi, simuliamo, direi. Ma sì, ma io, cioè, io non posso giocarmi la faccia per colpa del gioco. Poi, prestito di due anni, Francoforte, secondo me ho proprio sbagliato la roba del prestito, cioè io devo decidere, lo voglio tenere o lo voglio vendere. Perché comunque l'esagono è pauroso, è giovane, forse non ha senso mandarlo in prestito, però ha più senso a sto punto cedere qualcun altro. Io allenerei Miranda attaccante e piuttosto darei via uno tra il Biarserrano e Fofanà. Aggiunge gli trasferimenti e invece lui rimuovi dai prestiti, Fofanà troverà spazio magari un'altra volta. Cioè, in campo noi l'abbiamo provato, non mi ha fatto impazzire tutto qua. A meno che, oh ti giuro, facciamo questa scommessa, gli diamo una partita intera. Se segna rimane, se non segna viene venduto. Simulazione veloce, non ha segnato. Comunque abbiamo vinto, questo è l'importante, perché ci stiamo dimenticando della cosa più importante. Poi, Ronaldo Viera è salito, giocatore veramente strepitoso. E ci sono alcuni giocatori che non diresti mai e invece fanno paura. Vediamo questo cambio di ruolo, 71, tutti così però, cioè anche qua. Offerta per Eric dal Benevento, Danzo al Real. Al Real va dato. Altrimenti, ragazzi, possiamo simulare fino alla fine dell'anno. Cioè, se vogliamo giocarla un minimo, sta carriera dobbiamo anche osare. Semedo non va via per nessuna cifra, che era bello da prendere, Semedo. E da riprendere prenderei o Awaziem, che era già stato nel Buavista, si può riportare indietro, 79. Oppure prendere Vezzo e riportarlo in Portogallo. Chiediamo 50 milioni per Danzo, una cifra a cui non si può dir di no. 35 più 5% rivendita. 47.5, perché le prime due vanno alzate tanto. 38, ok ragazzi, comunque vale 29, quindi io faccio 45 milioni. 43.3, ma perché? 45. Accettano! Abbiamo fatto bene a tenere la voce grossa. 45 milioni per Danzo va al Real Madrid. Un acquisto strepitoso, a cui non avrei dato una lira e invece è stato strepitoso. Davvero, uno dei migliori difensori comprati quest'anno. Allora, io farei così ragazzi, teniamo la testa al toro, andiamo subito al 31 di gennaio. Sì, più logico è Vezzo. Infatti, adesso partiamo dal fondo. Mando le offerte un po' in giro e vediamo chi accetta. Sempre così ormai. Vabbè, considerando a quanto è andato via Danzo, possiamo anche riprendere Awaziem a 20. Tempo per riflettere è un no. Ricordatevi sempre ragazzi, tempo per riflettere è un no. Vezzo, Vezzo è figo. E tra l'altro a 28 anni, 80, prende anche poco. Che sarebbe sensato, dai un giovane, prendi uno più esperto. Che poi in realtà è comunque pochissimo, eh. 25.1. 24. Perché devo dire l'ultima parola. Allora, Vezzo 24 milioni. Giusto, non poco, non tanto. 20 in stallo Awaziem, che però ormai è arrivato anche lì, è arrivato a 26 anni pure lui, eh. Martinez Quarta, 20.8. Beh ragazzi, Martinez Quarta costa meno di Vezzo, eh. Ferro ci piaceva, vero? Si può sapere almeno l'atletismo? Non si può sapere una mazza. Ferro. 20 per ferro. Ah, c'è? Tutti i 20 costano adesso. Andiamo su giocatori con nomi un pochino più originali, perlomeno per la nostra carriera. Ah sì, questo potrebbe essere il colpaccio. Però, 1.78, difensore centrale. Uduokai. Vai. Contatta per acquistare. 35. Quindi vuol dire che è cresciuto tantissimo, però. Perché Uduokai è il perfetto. Io, nessuno se lo caga. Cioè, uno vede il nome e dice, questo chi è? Invece è molto forte. Molto forte. E vedo anche molto costoso pezzi di merda. Ci serve tempo. Il tempo è un no. Allora, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. È inaccettabile per Uduokai, però 28. Accettata per Awaziem, 20. 20 per Awaziem, che ci sarebbe come ritorno. Però Uduokai costa un pochino in più. 25. Accetta, ma allora cosa stavi pensando? Cosa stavi pensando? Abbiamo molta curiosità di vedere Uduokai, che è un giocatore che avevo già messo in hub mercato nelle altre carriere. È un giocatore che non ho mai visto in giro. Molto originale. Che secondo me farà parlare di sé. 25 anni, ottime statistiche. Che se non sbaglio è stato anche chiamato in nazionale agli europei. Felix, cruciale. Ignora Clausola, per fortuna chiede già lui. Noi togliamo le presenze. E mettiamo anche 300.000 di bonus in gaggio. E vediamo se accetta. 32.5. Va bene, Uduokai arriva. Anche se non volevo pagarlo più di 30.000. 79. Però l'esagono è spettacolare. Possiamo metterlo qua a sinistra con Santos a destra. Ragazzi, esagono di Santos Straborda! Straborda! Esagono che straborda per Santos. Uduokai comunque mantiene una buona compattezza. Andrebbe a sinistra. Secondo me è vero, ha uno in meno di ferro, ma rientra meglio negli schemi della squadra, che è una squadra tutta abbastanza veloce e dinamica. Io lo terrei per provarlo, ragazzi. È un nome esotico, un nome che non ho sentito in giro e quindi è un nome per noi. Secondo me ne è valsa la pena per il realismo definitivo. Possiamo dire che anche ad agosto teniamo alto il realismo. Vediamo se arriva ancora qualcosa. Alla fine volevo andare veloce, ma col mercato come si fa ad andare veloce? Fofanà allo Stead Brestois. Portland Timbers su Eric. Rifiuto. E a sto punto, ragazzi, Fofanà, vuoi o non vuoi mandarlo? Deve crescere da qualche parte e qua da noi non cresce. Albiar Serrano se non cresce non ce ne facciamo una colpa. Ma rovinare la carriera di David Dattro Fofanà ci dispiacerebbe. Tratta e 3.5 può andare. Non ci interessa più niente, ragazzi. È finito il mercato, adesso si va avanti a fuoco. Simulazione veloce col Famili Sao. 1-2 per loro. Ottimo, non me ne frega più niente. Andiamo a giocarci l'Europa League e basta. Andiamo a giocare, allora, l'andata col BT Siviglia. E se vinciamo il ritorno lo simuliamo. E così riusciamo a fare una parita alla volta. Io qua proverei Antist e poi vorrei mettere Castro. Che nel caso lo facciamo entrare a gara in corso. Vi dico come va questa, ragazzi? Volete sapere come va questa partita? Questa partita la proseguiremo simulando al trentesimo minuto. Perché siamo già sul 3-0. Palla dentro. Antist. Gol 1-0. Per il Boavista. Sedicesimi di Europa League. Periodo molto complicato. Volevamo piuttosto andare avanti ancora in Champions. Poter emozionarci con degli ottavi. Così non è stato. Ora questa Europa League godiamocela e proviamo a vincere. 2-0 Elis. La panterita. E poi Orta. Miracolo del portiere. Avevamo fatto delle belle partite anche in Champions. Le partite contro il Bayern Monaco strepitose. Leo. 3-0. Fine primo tempo. Ed è chiuso già il discorso qualificazione. Quello non possiamo ancora dirlo. Però della partita sicuramente sì. Vai al risultato. 1-3. Ma niente. Ci hanno dovuto alla fine regalare comunque quel gol. 1-3. In realtà qua no. Sì. Siamo messi abbastanza male. Ma anche il porto è messo male. È l'anno del Braga. Sporting e Benfica sempre clamorosi. E andiamo a fare una simulata veloce con la Morirenze. 1-0 per noi. 1-0 per noi. Ma cos'è questo 3-2 totale? Sedicesimi col Betis. Ritorno. Io questa volta farei l'opposto. Cioè partirei simulando e poi nel caso entriamo. Elis. 1-0 contro il Betis. Così si apre davanti al nostro pubblico. 4-1. E beh ragazzi adesso sapendo che la Coppa Nazionale è persa. Che campionato è perso. Ci teniamo buona a quest'Europa League. Non credo che riusciamo a finirla oggi. Ma sicuramente la prossima volta sì. Qua 1-1. Gol di Vignas. Fischio finale 1-1. Passiamo noi. Andiamo agli ottavi di Europa League. Con delle sorprese. Io sto aspettando sinceramente l'uscita del City. Per poter sperare effettivamente in una finale. Perché se becchiamo il City lungo il nostro percorso. È proprio da fare l'ave maria. La prossima cos'è? Il Trabzonspor. Ma questa ragazzi ce la giochiamo proprio in scioltezza. Tassa portuguesa sono curioso. Benfica Sporting e Braga Victoria. Nei campionati come quello portoghese c'è uno script così forte. Per cui Sporting e Benfica devono vincere. Cioè noi l'anno scorso non so come abbiamo fatto a vincere. Infatti i ragazzi sarebbe veramente da statua. Cioè la seconda stagione che abbiamo fatto col Boa Vista strepitosa. Ed è 2-1 per noi. Doppietta di Ronaldo. Il vero Ronaldo. E Benfica perde. E allora andiamo direttamente qua. Perché generalmente abbiamo detto che non li facciamo neanche sotto tortura. Se vinciamo andiamo a 52. Meno 2 da Braga. Forza forza forza. 3-0. Castro ha segnato. Castro ha segnato. Castro ha segnato. Che ha il potenziale per diventare speciale. Volevo dirle che sono un po' preoccupato da cosa. Da cosa Riccardo. Porca miseria. Che sei fortissimo. Aggiornamento. Dai. Allora direi di fare così. Simulazione veloce. 1-0. E facciamo il ritorno. City tra l'altro sta vincendo. Ha vinto 3-1 con l'Ajax. Dai bisogna sempre combattere. Questa la gioco comunque vada. Cioè se continui a simulare e perdi poi non hai neanche il diritto di lamentarti. Cioè io alla fine mi lamentavo quando le giocavo tutte. E vedevo che a un certo punto dal nulla la squadra non si muoveva più. Facciamo il ritorno con il Trabzonspor. E poi stacchiamo e speriamo di passare così vediamo chi sarà la prossima avversaria. Così però abbiamo capito ragazzi che sono forti. Attenzione però a deviazione che ci porta fortuna. Martinez. Non ci credo. Dai. 1-0. Gol di Elisa Panterita. Molto forte Uduokai. In questo momento... Ah beh. Ah beh. Ah beh. Ah beh. Ragazzi attenzione. Il famosissimo Tiki Taka di Trebisonda. Guarda ragazzi. Non so. Si potrebbe fare simulazione lenta. Ma ormai arrivati a questo punto. Cosa ci cambia? Tanto dopo questa sappiamo che rimandiamo all'episodio dopo. Tavares. Para Urgukan. Ottavi. Ottavi di Europa League. Dove pensavo invece di giocarmi la tassa portuguesa. Ma ovviamente siamo usciti. Non c'era... No! Si è fatto male Ronaldo Viera. Ora abbiamo raggiunto il fondo. Arriva la barella per Ronaldo Viera. Miglior giocatore della carriera insieme a Danso. Uno venduto. L'altro rotto. Addio. Vai Castro. Gol. Martinez. Con assist di Castro. Ok. Arrivano dei fischi. Dei fischi notevoli. Per il Trebisonda. Che si è beccato due pere. I City però ne ha date tre all'Ajax. Ed è una ruota che gira. E quindi adesso sono curioso di vedere il prossimo avversario. Questa è la mia faccia gioiosa. Che ho perso per sette mesi. Uno dei miei giocatori preferiti di questa carriera. Ma ne sappiamo qualcosa, no? Basta pensare all'Hammers con il Blackpool. Prossimo avversario. Sono molto curioso. Adesso intanto salviamo. Così la prossima volta con maggiore entusiasmo possiamo magari vedere come gioca l'Inghilterra. Quando va. Voglio vedere solo davanti colco la maglia dell'Inghilterra. Poi simulo fino alla fine. Avremo il Leicester. Il Leicester. Che bello. Che bello. Vediamo le altre partite. Napoli-Leverkusen. Milan-Siviglia. Boa Vista-Leicester. E Lione-City. Adesso inizia a farsi seria. Saremo contro Kunimoto. E vediamo. Io ragazzi faccio già adesso partire la bet sul gol di Kunimoto. Nel prossimo episodio. Comunque il campionato è andato. La coppa è andata. Ci giochiamo l'Europa League la prossima volta. E poi chiuderemo la stagione. Chiuderemo l'anno. Ultimo video su FIFA 21. Che è stato un anno che mi ha regalato inizialmente tantissime gioie. Perché la carriera con l'Elas Verona è stata meravigliosa. Perfetta. Poi col Blackpool. Anche lì poco da dire. Se non la difficoltà a vincerla è fake up. Già quello doveva essere un segnale. Segnale adesso completamente confermato. Perché poi nel frattempo col passare dei mesi. E di nuovo dover toccare le sliders. Per la difficoltà. E il gioco che si frizza ogni tanto. Non si sa perché. E gli allenamenti. E le trattative sminchiate. E chi più ne ha più ne metta. Difficoltà dinamica eccetera. Siamo sempre lì. Alla fine sono arrivato abbastanza esaurito. Forse questa carriera era meglio interrompere alla seconda stagione. Però mai dire mai. Magari riusciamo comunque a vedere una buona crescita della squadra. L'Europa League. Comunque vabbè. L'anno scorso era peggio. L'anno scorso era peggio. Poi noi eravamo accecati. Perché avendo ripreso a fare carriere. Anche con lo Spalcellona. Ci divertivamo anche se era un disastro. Quest'anno almeno è stato un disastro. Con delle migliorie.